Le azioni del devoto del Sutra del Loto, terza parte. I preti, riuniti per il dibattito di Tsukara sull'isola di Sado, procedete a citare le dottrine di grande concentrazione e visione profonda della scuola della vera parola Enembutsu. Replicai a ciascuno di loro, stabilendo l'esatto significato di ciò che era stato detto, quindi ribattei con alcune domande. Tuttavia, mi furono sufficienti una o due domande per metterli a tacere. Essi erano di gran lunga inferiori ai preti della vera parola, Zen, Enembutsu e Tendai di Kamakura. Così, puoi immaginare, comandò a finire il dibattito. Gli sconfissi con la stessa facilità con la quale una spada affilata taglia un melone o la tempesta piega i fili d'erba. Non solo erano del tutto impreparati in materia di dottrine buddiste, ma si contraddicevano nei loro ragionamenti. Confondevano i Sutra con i trattati e i trattati con i commentari. Dopo che tutti se ne furono andati, iniziai la stesura di un trattato in due volumi, intitolato L'Apertura degli Occhi, al quale stavo lavorando dall'undicesimo mese dell'anno precedente, in cui intendevo fissare la meravigliosa esperienza di Nichiren, nel caso fossi stato decapitato. Il messaggio essenziale di questo trattato è che il destino del Giappone dipende esclusivamente da Nichiren. Una casa senza pilastri crolla, una persona senza anima è morta. Nichiren è l'anima del popolo di questo paese. Eino Saemon ha abbattuto il pilastro del Giappone e nel paese cresce il malumore, mentre voci infondate appaiono come fantasmi per creare conflitti all'interno del clan reggente. Inoltre il Giappone verrà presto attaccato da un paese straniero, come è descritto in Adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Dissi rivolto a Il paese è condannato alla rovina, ma poiché Nichiren aveva chiesto agli dèi di sospendere per il momento la punizione, esso è sopravvissuto fino a ora. Tuttavia quella punizione infine è arrivata perché tali azioni irragionevoli sono state eccessive. Udendo ciò il rapporto dei preti Nembutsu che sollevavano accuse calugnose contro di me, l'ex governatore di Musashi, Ojo Nobutoki, decise che non vi era alcuna necessità di riferire queste notizie al reggente. Inviò un suo ordine personale affinché ogni seguace di Nichiren nella provincia di Sado venisse scacciato o imprigionato, quindi mandò anche alcune lettere ufficiali con istruzioni simili. Lo fece tre volte. Non proverò a descrivere ciò che accadde in seguito, penso lo possiate immaginare. Alcune persone vennero imprigionate semplicemente perché erano passate davanti alla mia capanna, altre vennero esiliate perché accusate di avermi recato doni, o le loro moglie e i loro figli furono presi in custodia. L'ex governatore di Musashi riferì quindi il suo operato al reggente, ma, contrariamente alle sue aspettative, questi emanò una lettera di perdono il quattordicesimo giorno del secondo mese dell'undicesimo anno di Bunei, 1274, che arrivò a Sado l'ottavo giorno del terzo mese. Lasciai l'isola di Sado il tredicesimo giorno del terzo mese e raggiunsi Kamakura il ventiseiesimo giorno dello stesso mese. L'ottavo giorno del quarto mese ebbi un colloquio con Eino Saemon. Contrariamente al suo comportamento in precedenti occasioni, questa volta i suoi modi furono gentili e mi trattò con cortesia. Il prete laico che lo accompagnava mi fece domande sulla scuola Nembutsu. Un laico mi interrogò sulla scuola della vera parola e un'altra persona mi chiese qualcosa sulla scuola Zen. Mentre lo stesso Eino Saemon mi chiese se fosse possibile raggiungere la via con uno dei Sutra precedenti al Sutra del Loto. Risposi a ognuna di queste domande citando passi dai Sutra. Quindi Eino Saemon, apparentemente a nome del reggente, chiese quando le forze mongole avrebbero invaso il Giappone. Risposi Attaccheranno sicuramente entro quest'anno. Ho già espresso la mia opinione al riguardo, ma non è stata ascoltata. Se si cerca di curare la malattia di qualcuno senza conoscerne l'origine, quella persona si aggraverà ancora di più. Allo stesso modo, se verrà concesso ai preti della vera parola di eseguire le loro preghiere e i loro rituali contro i mongoli, essi non faranno che causare la sconfitta militare del paese. Non ho alcun dubbio che, se si continuerà a concedere a questi preti di pregare per la vittoria, anche vostra signoria si troverà a dover fronteggiare qualche spiacevole evento. E quando questo accadrà, non potrete certo dire che io non abbia cercato di avvertirvi. Così, se veramente io mi rivolsi a lui. Spiegazione di Daisaku Ikeda Cosen Rufu, una sfida per trasformare il destino degli esseri umani. Nel maggio del 1972 mi incontrai con Arnold J. Toynbee, 1889-1975, considerato uno dei più grandi storici del XX secolo, presso il suo appartamento di Londra, dove ebbe inizio un dialogo che si svolse nell'arco di due anni. Le nostre discussioni toccarono una vasta gamma di argomenti. Quando arrivammo a parlare delle sue ricerche, gli chiesi, cosa vorrebbe fare proprio adesso più di ogni altra cosa? La mia domanda è raggiunta probabilmente piuttosto inaspettatamente, ma replicò con espressione benevola, che avrebbe voluto continuare a fare esattamente quello che stavamo facendo allora in quella stanza, e cioè un dialogo. Disse che il nostro dialogo era uno sforzo per riunire tutta l'umanità in un'unica famiglia e che di per sé era estremamente importante perché era convinto che unirsi in un'unica famiglia fosse vitale per la sopravvivenza della specie umana. Per raggiungere lo scopo di unire l'intera umanità in un'unica famiglia, dobbiamo continuare a sforzarci di dialogare, con costanza e tenacia. Ascoltando le parole di Toynbee, ebbi l'impressione di cogliere un barlume dello spirito combattivo e della compassione contenuti nel cuore di quel grande studioso che credeva nel potenziale dell'umanità. Il pilastro spirituale dell'umanità. Se il mondo dove dimora questa vasta famiglia allargata fosse paragonabile a una casa, quale sarebbe il pilastro che la sostiene? Nella nostra discussione, Toynbee e io concordammo sul fatto che la religione, e in particolare il buddismo maayana, aveva il potenziale per svolgere un ruolo positivo di grande significato nel futuro dell'umanità. Senza un pilastro spirituale che la sostenga, una famiglia, una società e l'umanità nel suo complesso non possono prosperare. Nichiren Daishonin si batte per costruire una società basata sul pilastro portante dello spirito del Sutra del Loto, l'essenza del buddismo maayana. Si alzò da solo, animato dallo spirito buddista di saggezza e compassione, per risvegliare i governanti del paese e salvare la nazione. Nel bel mezzo delle persecuzioni, il Daishonin afferma, io sarò il pilastro del Giappone, l'apertura degli occhi, e Nichiren è il pilastro e la trave del Giappone, sbarazzarvi di me significa far crollare il pilastro del Giappone, la scelta del tempo. Nel gosho che stiamo studiando, il Daishonin descrive il suo comportamento e le sue azioni per trasmettere ancora una volta questa potente convinzione ai seguaci che combattevano al suo fianco e alle generazioni future. Approfondiamo insieme per apprendere quale dedizione nella fede devono avere i discepoli che aspirano a ereditare il nobile spirito del Daishonin di proteggere le persone. I preti, riuniti per il dibattito di Tsukaara sull'isola di Sado, procedetero a citare le dottrine di grande concentrazione e visione profonda della scuola Tendai, della scuola della vera parola e Nembuzzo. Replicai a ciascuno di loro, stabilendo l'esatto significato di ciò che era stato detto, quindi ribattei con alcune domande. Tuttavia mi furono sufficienti una o due domande per metterli a tacere. Essi erano di gran lunga inferiori ai preti della vera parola, Zen, Nembuzzo e Tendai di Kamakura. Così può immaginare come andò a finire il dibattito. Li sconfissi con la stessa facilità con la quale una spada affilata taglia un melone o la tempesta piega i fili d'erba. Non solo erano del tutto impreparati in materia di dottrine buddiste, ma si contraddicevano nei loro ragionamenti. Confondevano i sutra con i trattati e i trattati con i commentari. Il comportamento di un impavido re leone. Sull'isola di Sado, Nichirendaishonin, abitava a Tsukara, nel Samai-do, un piccolo luogo di culto in rovina, isolato da alti cumuli di neve e costantemente sferzato dai geli di venti invernali. Recitava Nam-myo-renge-kyo e trascorreva i giorni e le notti a dialogare con i cieli sul significato profondo del Sutra del Loto. Nonostante le aspre persecuzioni di cui era oggetto, il Daishonin manteneva il maestoso stato vitale di un impavido re leone e, anche nel suo luogo di esilio, si basava sempre sulla legge. Come abbiamo visto nella lezione precedente, il Daishonin dimostrò uno stato vitale così nobile da considerare i suoi persecutori come buoni amici che gli consentivano di dimostrare la sua condizione di devoto del Sutra del Loto. In totale contrasto con la serena compostezza del Daishonin, invece, le numerose centinaia di preti buddhisti del Nembutsu, della vera parola e di altre scuole presenti a Sado, erano in fermento per cercare di farlo giustiziare. Il vice conestabile di Sado, Ommarokuro Saemon, cercò di fermare gli avversari del Daishonin dichiarando «È giunto dal governo un documento ufficiale nel quale si comanda che il prete non venga giustiziato. Costui non è un comune spreggevole e criminale e se gli dovesse accadere qualcosa, io, Shige Zura, sarò considerato colpevole di un grave delitto. Invece di ucciderlo, perché non lo affrontate in un dibattito religioso? E così, alla presenza di Ommarokuro Saemon, il 16 gennaio 1272, si svolse un dibattito religioso noto come il dibattito di Tsukhara. I preti buddhisti radunati quel giorno a Tsukhara non provenivano soltanto da Sado, ma erano giunti attraversando mari in tempesta dalle vicine province di Echigo, Echu, Dewa, Shinano e Oshu. Faccia a faccia con il Daishonin che odiavano, i preti espressero rumorosamente la loro rabbia. Il Daishonin descrive così la scena. Il chiasso e lo scherno risuonavano come il tuono e sembravano scuotere la terra. Insomma, fu subissato da un fiume di insulti e di rabbiosa derisione. Ma il Daishonin rimase calmo. Così descrive quell'episodio. Li lasciai urlare ancora per un po', poi dissi «Fate silenzio tutti voi, siete qui per un dibattito religioso, non è il momento di insultare». A questo punto, Rokuro Saimon e gli altri espressero il loro consenso e alcuni di loro afferrarono per il collo i preti Nembutsu che mi ingiuriavano e li spinsero indietro. Una volta che il dibattito ebbe inizio, però, fu chiaro che i suoi avversari non avevano alcuna speranza di avere la meglio. Dopo che il Daishonin ebbe riformulato ciò che le loro enunciazioni significavano, mettendone in luce gli errori, i suoi avversari rimasero ben presto senza parole. Essi erano assai inferiori ai preti di Kamakura, dice il Daishonin che aggiunge «li sconfissi con la stessa facilità con la quale una spada affilata taglia un melone». Non solo erano ignoranti, ma entravano in contraddizione e non conoscevano la differenza fra sutra, trattati e commentari, un'importante base dottrinale del buddismo. Secondo la descrizione del Daishonin, non erano minimamente all'altezza di condurre un vero dibattito. Naturalmente, il Daishonin vinse in maniera schiacciante. I suoi avversari, incapaci di replicare, imprecarono, rimasero in silenzio, impallidirono o addirittura gettarono sul posto tunica e rosario e giurarono che non avrebbero più recitato il Nembutsu. Malgrado fosse circondato da una folla di centinaia di persone piene di odio e malanimo nei suoi confronti, il Daishonin rimase imperturbabile. Senza dubbio, il suo atteggiamento coraggioso colpì gli avversari. Il dibattito dimostrò ancora una volta che gli insegnamenti del Daishonin erano basati sull'incrollabile verità del buddismo. Quando il dibattito terminò e i convenuti cominciarono ad andarsene, il Daishonin si rivolse a Omarokuro Saemon chiedendogli quando pensasse di partire per Kamakura. Imbarazzato da quella domanda, Oma rispose che sarebbe ripartito nel mese di luglio come tutti gli anni al termine del lavoro nei campi. Allora il Daishonin gli disse lavorare i campi per un guerriero significa assistere il suo signore in tempi di pericolo e ricevere feudi in cambio dei servigi resi. Poiché a Kamakura stanno per scoppiare disordini dovreste affrettarvi a rientrare in città per mostrare il vostro valore in battaglia e sarete ricompensato con alcuni feudi. Dal momento che i vostri guerrieri sono rinomati in tutta la provincia di Sagami se resterete in campagna a curare le coltivazioni e arriverete troppo tardi per la battaglia il vostro nome cadrà in disgrazia. Probabilmente Omarokuro Saemon non comprese il significato di quelle parole che il Daishoni in questa lettera definisce una profezia. Michireng era certo che ben presto sarebbero scoppiate lotte intestine e per questo aveva parlato così. Infatti dopo un mese ebbe luogo una rivolta all'interno del clan reggente Ojo chiamata in seguito tumulto di febbraio. Rokuro Saemon rimase stupefatto riconobbe l'integrità e l'autorevolezza del Daishonin e fece voto di non recitare mai più il Nembutsu. Dopo che tutti se ne furono andati iniziai la stesura di un trattato in due volumi intitolato L'apertura degli occhi al quale stavo lavorando dall'undicesimo mese dell'anno precedente novembre 1271 in cui intendevo fissare la meravigliosa esperienza di Nichiren nel caso fossi stato decapitato. Il messaggio essenziale di questo trattato è che il destino del Giappone dipende esclusivamente da Nichiren una casa senza pilastri crolla una persona senza anima è morta Nichiren è l'anima del popolo di questo paese Eino Saemon ha abbattuto il pilastro del Giappone non prestando ascolto alle mie rimostranze e condannandomi all'esilio e nel paese cresce il malumore mentre voci infondate appaiono come fantasmi per creare conflitti all'interno del clan reggente inoltre inoltre il Giappone verrà presto attaccato da un paese straniero come è descritto in adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese dissi rivolto a omarokuro Saemon anche se il mio consiglio verrà ascoltato ma non mi verrà reso rispetto che mi è dovuto come devoto del sutra del loto il paese andrà incontro alla rovina quel che è peggio è che le autorità abbiano suscitato contro di me l'odio di centinaia di persone e mi abbiano esiliato per ben due volte senza dubbio il paese è condannato alla rovina ma poiché Nichiren aveva chiesto agli dei di sospendere per il momento la punizione esso è sopravvissuto fino a ora tuttavia quella punizione infine è arrivata perché tali azioni irragionevoli sono state eccessive il Daishonin ribadisce il messaggio del trattato l'apertura degli occhi anche se il Daishonin era sfuggita all'esecuzione presso Tatsunokuchi durante l'esilio a Sado la sua vita continuava a essere in grave pericole le minacce di morte erano in agguato ovunque pienamente consapevole di questo egli afferma compose l'apertura degli occhi per documentare il proprio stato vitale dopo aver abbandonato la condizione transitoria e aver rivelato la sua vera identità come Buddha dell'ultimo giorno della legge cominciò a lavorare a questo scritto nel novembre del 1271 per completarlo nel febbraio del 1272 quando ne affidò una copia a una persona al servizio di Shijo Kingo in questa parte del Gosho le azioni del devoto del Sutra del Loto il Daishonin riassume il messaggio essenziale del trattato l'apertura degli occhi e cioè che egli è il pilastro del Giappone e l'anima del suo popolo e che la sopravvivenza stessa del paese dipende da lui il tentativo di giustiziarlo e la condanna all'esilio equivalevano ad abbattere il pilastro che sosteneva il Giappone di conseguenza il regno era nel caos e si sarebbero inevitabilmente verificate le due calamità delle lotte intestine e dell'invasione straniera come gli stesso aveva predetto in adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese mentre si preparava a inviare l'apertura degli occhi a Shijo Kingo e agli altri seguaci di Kamakura dice il Daishonin i preti suoi discepoli che si trovavano sull'isola di Sado erano preoccupati che le sue affermazioni fossero troppo forti ma non riuscirono a fermarlo poi prosegue dicendo io posso essere una persona insignificante ma dal momento che propago il Sutra del Loto sono l'inviato del Buddha Shakyamuni la Dea del Sole e il grande Bodhisattva Hachiman devono chinare la testa e prostrarsi davanti a me il Devoto del Sutra del Loto è assistito a destra e a sinistra da Brahma e Chakra e gli Dei del Sole e della Luna illuminano il suo cammino davanti e dietro queste parole erano indirizzate a Homma Rokuro Saemon che in tutta fretta stava preparandosi a partire da Sado alla volta di Kamakura dopo aver udito il 18 febbraio le prime notizie della rivolta all'interno del clan Ojo quando la predizione di lotta intestina che il Dei Shonin aveva formulato si verificò Rokuro Saemon fece voto giungendo le mani in segno di obbedienza che avrebbe smesso di recitare il Nembutsu il Dei Shonin rispose spiegandogli che stava propagando l'insegnamento corretto del Buddismo come inviato del Buddha Shakyamuni e aggiunse come ammonimento anche se il mio consiglio verrà ascoltato ma non mi verrà reso rispetto che mi è dovuto come devoto del Sutra del Loto il paese andrà incontro alla rovina perché il Dei Shonin usa parole così forti perché come si vede dall'enfasi che pone sul fatto di essere l'inviato di Shakyamuni e il devoto del Sutra del Loto l'insegnamento della legge mistica non può essere paragonato a nessun altro in un altro scritto domande e risposte riguardo all'abbracciare il Sutra del Loto afferma quindi se la legge che una persona abbraccia è suprema ne consegue che la persona che l'abbraccia deve essere la prima fra tutte le altre e se ciò è vero allora denigrare questa persona equivale a denigrare la legge penso inoltre che il Dei Shonin usasse toni così forti animato dal forte impegno di mettere in grado le persone di ottenere l'illuminazione e tracciare il sentiero per la felicità di tutti gli esseri umani questo impegno non è altro che il voto di realizzare Kosen Rufu in altre parole è il cuore del Buddha il cuore del Buddha è l'appassionato spirito combattivo di salvare tutte le persone dall'infelicità e dalla sfortuna che il Dei Shonin descrive come una preoccupazione e compassione ancora più grandi di quelle di un padre e di una madre che vedono il loro unico figlio afflitto da una grande sofferenza 60 anni fa il secondo presidente della Soka Gakkai Giosei Toda pubblicò un saggio dal titolo lettura solenne di un passo de l'apertura degli occhi nel quale scriveva ogni volta che leggo gli scritti del Dei Shonin anziché cercare semplicemente di capire le sue parole mi sforzo di entrare in contatto con la sua immensa compassione con la sua poderosa convinzione con il suo ardente spirito di aiutare e proteggere gli altri con la sua solenne e incrollabile dedizione a cose in rufo ogni volta che leggo i suoi scritti il suo spirito radioso come il sole di mezzogiorno nel cuore dell'estate inonda inonda il mio cuore mi sembra di avere in petto un'enorme palla di acciaio fuso a volte sento sgorgare dentro di me una sorgente calda oppure mi sembra che una grande cascata così forte da scuotere la terra precipiti fragorosamente su di me le battaglie che il Dei Shonin combatté nella sua vita erano piene di grande compassione e convinzione nonché dell'intenso desiderio di aiutare tutte le persone a ottenere l'illuminazione in particolare fu a Sado che il Dei Shonin dichiarò la sua incrollabile determinazione di realizzare Kosen Rufu una dichiarazione per Kosen Rufu nel mezzo delle avversità la dichiarazione del Dei Shonin di essere il pilastro del Giappone gli occhi del Giappone e il grande vascello del Giappone era un grande voto di condurre tutte le persone all'illuminazione anche nello scritto l'oggetto di culto per l'osservazione della mente il Dei Shonin espone la sua intenzione di stabilire l'oggetto di culto supremo in Jabu Vipa e di realizzare le profezie di Shakyamuni di molti tesori e dei Buddha delle dieci direzioni nel Gosho sulla profezia del Buddha afferma io dico che certamente il buddismo sorgerà e scorrerà da est dalla terra del Giappone e essi sono segni che le dottrine della legge suprema stanno sorgendo e che le altre dottrine sono in declino in il vero aspetto di tutti i fenomeni scrive infine al tempo in cui la legge si diffonderà ampiamente l'intero paese del Giappone reciterà Nam-myo-renge-kyo questo è certo come una freccia che puntata verso terra non può mancare il bersaglio persino nel mezzo della dura realtà dell'esilio il Dei Shonin proclamò coraggiosamente la sua determinazione di realizzare Kosen Rufu l'ampia propagazione della legge mistica nell'ultimo giorno della legge questo fu lo spirito essenziale la convinzione suprema del Dei Shonin durante il periodo che trascorse a Sado l'intento del Buddha e al tempo stesso la profezia del Buddha è di realizzare Kosen Rufu nell'ultimo giorno della legge a Sado il Dei Shonin rinnovò la solenne promessa che quello era il tempo di realizzare il grande voto originale del Buddismo voleva elevare tutti gli esseri umani allo stato di Buddità e impedire che anche una sola persona conducesse una vita infelice era determinato a salvare il suo paese e il mondo intero questo fu il nobile intento che il Dei Shonin comunicò a Omar Okuro Saimon tuttavia i funzionari del governo militare di Kamakura si rifiutarono di riconoscere che il Dei Shonin stava dicendo la verità e incarnando il passo del sud del loto in cui afferma demoni malvagi si impossessarono di altre persone tentarono di perseguitarlo ulteriormente ciò si palesò nel comportamento di Ojo Nobutoki che a quel tempo era il governatore della provincia di Musashi e il conestabile dell'isola di Sado udendo ciò il rapporto dei preti Nembutsu che sollevavano accuse calunniose contro di me l'ex governatore di Musashi Ojo Nobutoki decise che non vi era alcuna necessità di riferire queste notizie al reggente inviò un suo ordine personale affinché ogni seguace di Nichire nella provincia di Sado venisse scacciato o imprigionato quindi mandò alcune lettere ufficiali con istruzioni simili lo fece tre volte non proverò a descrivere ciò che accadde in seguito penso lo possiate immaginare alcune persone vennero imprigionate semplicemente perché erano passate davanti alla mia capanna altre vennero esiliate perché accusati di avermi recato doni o le loro moglie e i loro figli furono presi in custodia l'ex governatore di musashi ojo nobutoki riferì quindi il suo operato al reggente ma contrariamente alle sue aspettative questi emanò una lettera di perdono il quattordicesimo giorno del secondo mese dell'undicesimo anno di bunei 1274 che arrivò a Sado l'ottavo giorno del terzo mese lasciai l'isola di Sado il tredicesimo giorno del terzo mese e raggiunsi Kamakura il ventiseiesimo giorno dello stesso mese la vittoria sulle persecuzioni e il ritorno a Kamakura sentendosi minacciati dai nuovi sostenitori che cominciavano a raccogliersi intorno al Daishonin dopo il dibattito di Tsukara i preti Nembutsu presenti a Sado si riunirono per stabilire il da farsi decisi a liberarsi del Daishonin a tutti i costi alcuni di loro si recarono a Kamakura per presentare a Ojo Nobutoki accuse false contro il Daishonin se questo prete rimane nell'isola di Sado non resterà più un solo tempio buddista o un solo monaco prende le statue del Buddha Amida e le getta nel fuoco o le butta nel fiume di giorno e di notte sale su un'alta montagna e rivolto al sole e alla luna maledice le autorità il suono della sua voce si ode nell'intera provincia Nobutoki decise di non riferire tutto questo ai suoi superiori e creò un falso ordine governativo per perseguitare i seguaci del Daishonin in cui si diceva che andavano scacciati dalla provincia o imprigionati per tre volte emanò questi ordini personali in un altro scritto il devoto del sutra del loto incontrerà persecuzioni il Daishonin ne cita uno ma complottare in questo modo era segno di un intento malvagio e i preti Nembutsu nonostante tutti i loro piani meschini non riuscirono a distruggere il Daishonin anche i discepoli si comportarono con coraggio quando furono perseguitati l'acqua può essere torbida ma diventerà di nuovo limpida la luna può essere nascosta dalle nuvole ma riapparirà sicuramente lettera al prete laico Nakaoki scrive il Daishonin infine l'8 marzo 1274 giunse a Sado una lettera di perdono il Daishonin lasciò l'isola poco dopo il 13 marzo i preti Nembutsu e i loro seguaci continuarono nei loro intrighi per attentare la sua vita nel viaggio di ritorno a Kamakura ma poiché fu scortato da un grosso contingente di soldati non poterono fargli alcun male egli riferisce di essere arrivato sano e salvo a Kamakura il 26 marzo era tornato vivo dall'esilio di Sado una punizione che equivaleva a una condanna a morte come saranno stati felici i suoi seguaci che lottavano contro ogni genere di persecuzione di averlo di nuovo nella capitale fu veramente un ritorno trionfante l'ottavo giorno del quarto mese poco dopo ritorno a Kamakura convocato ufficialmente dalle autorità ebbi un colloquio con Eino Saemon contrariamente al suo comportamento in precedenti occasioni questa volta i suoi modi furono gentili e mi trattò con cortesia il prete laico che lo accompagnava mi fece domande sulla scuola Nembutsu un laico mi interrogò sulla scuola della vera parola e un'altra persona mi chiese qualcosa sulla scuola Zen mentre lo stesso Eino Saemon mi chiese se fosse possibile raggiungere la via con uno dei sutra precedenti al sutra del loto risposi a ognuna di queste domande citando passi dai sutra quindi Eino Saemon apparentemente a nome del reggente Ojo Tokimune chiese quando le forze mongole avrebbero invaso il Giappone risposi attaccheranno sicuramente entro quest'anno ho già espresso la mia opinione a riguardo ma non è stata ascoltata se si cerca di curare la malattia di qualcuno senza conoscerne l'origine quella persona si aggraverà ancora di più allo stesso modo se verrà concesso ai preti della vera parola di eseguire le loro preghiere e i loro rituali contro i mongoli essi non faranno che causare la sconfitta militare del paese non ho alcun dubbio che se si continuerà a concedere a questi preti di pregare per la vittoria anche vostra signoria si troverà a dover fronteggiare qualche spiacevole evento e quando questo accadrà non potrete certo dire che io non abbia cercato di avvertirvi così se veramente io mi rivolsi a lui la terza rimostranza in questa parte viene descritta la convocazione del Daishonin da parte del governo dopo il suo ritorno a Kamakura e il colloquio con Eino Saemon nel corso del quale egli fece la sua terza rimostranza in netto contrasto con le occasioni precedenti questa volta il Daishonin fu trattato con la massima cortesia quando gli fu chiesto degli altri insegnamenti buddhisti egli rispose citando passi dei sutra Eino Saemon poi gli domandò quando i mongoli avrebbero attaccato ed egli rispose che sarebbe sicuramente successo entro l'anno aggiunse che i preti della vera parola che pregavano per la sconfitta dei mongoli erano come chi cerca di curare una malattia senza conoscerne la causa così come un trattamento medico da parte di una persona non qualificata non fa che peggiorare la malattia affidarsi a questi preti significava esporre il paese a un tremendo pericolo cercando di assumere un atteggiamento conciliante Eino Saemon offrì al Daishonin di costruirgli un tempio e gli chiese di pregare per la sconfitta dei mongoli insieme ai preti della vera parola e delle altre scuole buddiste non stava certo accettando il consiglio del Daishonin di adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese ma lo stava trattando come un qualsiasi altro prete buddista in altre parole il Daishonin continuò a non ottenere rispetto che gli era dovuto come devoto del Sutra del Loto nei suoi scambi con Eino Saemon il Daishonin si comportò sempre con la massima integrità in la scelta del tempo afferma eloquentemente dissi a Eino Saemon Gio anche se poiché sono nato nel dominio del governante sembra che io lo segua nelle azioni non lo seguirò mai nel mio cuore in l'apertura degli occhi il Daishonin aveva fatto voto di non infrangere mai la sua promessa di essere il pilastro del Giappone nemmeno se gli avessero offerto il governo del paese o lo avessero minacciato con le più feroci persecuzioni e fedele alle sue parole rifiutò l'offerta del governo di assegnargli un tempio se si fosse unito agli altri preti buddisti nelle preghiere per respingere l'attacco dei mongoli il governo considerava la religione soltanto come un ulteriore mezzo per conservare potere e autorità mentre il Daishonin nella sua ultima rimostranza si basava sul fatto che lo scopo fondamentale del buddismo è la realizzazione della felicità e della sicurezza del popolo in altre lettere ai seguaci il Daishonin scrive come mi aspettavo i miei ammonimenti rimasero inascoltati avevo protestato tre volte al solo scopo di salvare il Giappone dalla rovina e speravo di spiegare un'ultima volta la situazione a Inosa e Mon e salvare quelli che fossero riusciti a sopravvivere all'invasione del Giappone risposta al prete laico Takahashi Kosen Rufu si diffonde da una persona all'altra seguendo la tradizione orientale per cui se dopo tre rimostranze il consiglio di un saggio non viene ascoltato questo deve ritirarsi dal mondo il Daishonin già nel mese successivo maggio del 1274 lasciò Kamakura per stabilirsi sul monte Minobu la prima invasione mongola ebbe luogo nell'ottobre di quello stesso anno e la seconda sette anni dopo nel 1281 nessuna di esse portò alla conquista del Giappone ma molti credono che l'insoddisfazione della classe guerriera che non aveva ricevuto quasi nessuna ricompensa per l'immenso dispendio di uomini e mezzi al quale era stata costretta dal governo militare nella speranza di sconfiggere i mongoli scosse le fondamenta della relazione fra il sovrano e i suoi vassalli portando al declino e infine al crollo del regime di Kamakura in ogni caso i funzionari di governo posti di fronte al problema fondamentale di distruggere o preservare la nazione fecero la scelta sbagliata intanto sul monte Minobu il Daishonin si dedicava a istruire e formare i suoi discepoli perché sapeva che la battaglia per realizzare cose in rufo non finisce mai come scrive in varie lettere da prima solo Nichira recitò Namion Renge Kyo ma poi due tre cento lo seguirono recitando e insegnando agli altri la propagazione si svilupperà così anche in futuro non vuol dire ciò emergere dalla terra il vero aspetto di tutti i fenomeni in tutto il paese del Giappone sono la sola persona che ha recitato Namion Renge Kyo sono come il granello di polvere che dà inizio al monte Sumeru o come la goccia di rugiada che dà inizio al grande mare due persone tre persone dieci persone cento persone si uniranno a recitare il Daimoku fino a che esso si diffonderà in una provincia in due province in tutte le 66 province del Giappone fino alle due isole di Iki e Tsushima situate a largo della costa del Kyushu nel Giappone meridionale che subirono il maggiore impatto dell'attacco mongolo nel 1274 quando all'inizio io Nichiren presi fede nel Sutra del Loto ero come un'unica goccia d'acqua o un singolo granello di polvere in tutto il Giappone ma poi quando due tre dieci cento mille diecimila un milione di persone reciteranno il Sutra del Loto e lo insegneranno ad altri formeranno un monte Sumeru di perfetta illuminazione un grande mare di grande nirvana non cercare nessun'altra via per conseguire la buddhità la scelta del tempo Kosen Rufu progredisce quando i discepoli uno dopo l'altro si alzano per portare avanti la battaglia del maestro con la sua stessa determinazione e aspirazione recitando Nammyo Renge Kyo e trasmettendo gli insegnamenti agli altri tale pratica è l'unico cammino che conduce al conseguimento della buddhità nell'ultimo giorno della legge e alla costruzione di un mondo di pace e felicità impegnandoci per Kosen Rufu con devozione senza risparmiarci sulla base della legge mistica possiamo superare qualsiasi difficoltà e rivelare fiduciosi il nostro massimo potenziale in modo che tutti lo possano vedere possiamo acquisire una dignità e un'integrità come esseri umani che nessuna persecuzione da parte dei potenti e nessuna sofferenza karmica potranno distruggere la diffusione di questo modo di vivere da un individuo all'altro è Kosen Rufu grazie a questo sforzo per l'adozione dell'insegnamento corretto per la pace nel paese possiamo cambiare il destino dell'umanità in le azioni del devoto del sutra del loto il daishonin ci insegna a combattere questa imponente battaglia attraverso il suo stesso esempio e in tempi moderni Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda ci hanno insegnato a lottare come il daishonin attraverso le loro stesse azioni altruistiche la loro totale dedizione e la loro instancabile eloquenza anch'io mi sono impegnato in esatto accordo con il loro nobile spirito e per questo adesso il buddismo di Nichiren daishonin si è diffuso in 192 aree e nazioni del mondo senza dubbio nella Soka Gakkai vive e pulsa lo spirito dei primi tre presidenti siamo entrati in un'epoca in cui il comportamento dei nostri membri viene elogiato da intellettuali e persone comuni di tutto il mondo che anelano a vedere una trasformazione del destino dell'umanità un'epoca in cui la nostra rete dedicata al bene supremo si espande progressivamente in ogni direzione decidiamo di essere i pilastri del mondo Lokesh Chandra direttore dell'Accademia Internazionale di Cultura Indiana ha narrato un episodio particolarmente toccante che riguarda la famosa dichiarazione del Daishonin nel trattato l'apertura degli occhi il padre di Chandra Raghu Vira 1902 1963 autorità riconosciuta nel campo degli studi degli studi sanscriti conosceva bene la vita e le lotte di Nichiren Daishonin e aveva parlato al figlio di quanto ne fosse stato profondamente toccato Chandra dice di ricordare ancora vividamente l'espressione del viso del padre lo sguardo e il suono della sua voce mentre citava la frase io sarò il pilastro del Giappone io sarò gli occhi del Giappone io sarò il grande vascello del Giappone queste parole racconta Chandra ispirarono il padre ad assumere lo stesso senso di missione nei confronti del suo paese natale l'India per lui Nichiren rappresentava le fondamenta l'archetipo del coraggio e una fonte di ispirazione considerava Nichiren un esempio di grandezza di fronte alle avversità un simbolo della purezza e dello splendore che esistono nella vita l'epoca della gente tanto anelata da questi due studiosi padre e figlio sta veramente sorgendo ora nel ventunesimo secolo sta emergendo la possibilità che il genere umano si riunisca tutto in una grande famiglia e si sta intensificando la battaglia contro le divisioni e le discriminazioni che caratterizzano il karma dell'umanità pensatori di ogni campo concordano sul fatto che l'umanità si trova oggi a un bivio in cui si deciderà se sarà capace o meno di trasformare questo karma Todda dichiarò i giovani sono il pilastro del paese giovani alzatevi come individui anch'io vorrei rinnovare il mio appello ai giovani voi siete il pilastro del ventunesimo secolo giovani di tutto il mondo alzatevi come individui la nuova era in cui tutta l'umanità sarà unita insieme come una grande famiglia è il tempo in cui tutti noi e non solo un particolare gruppo dobbiamo ergerci come pilastri Cosen Rufu è un movimento senza precedenti nel quale ognuno di noi con le sue azioni di praticante della legge mistica si sforza di diventare un pilastro una persona dalla dedizione incrollabile che si adopera per cambiare il destino dell'umanità commemoriamo il sessantesimo anniversario della pubblicazione dell'edizione della Soka Gakkai del Nichi Rendaishoni Goshu Zenshu insieme ai giovani ai quali ha affidato il futuro della Soka Gakkai che ha un legame diretto con Nichi Rendaishonin